Guayoum, se avete un palato raffinato e troppo abituato a aragoste, champagne e quant'altro, allora questo video non fa per voi, andate avanti. Ma se siete poverello come me, allora gustatevi questa bella ricetta, un spaghetto povoriel. Ragazzi, vi posso assicurare che mangiando questo vi sentite ricchi dentro al vostro cuore. Partiamo con la sigla e poi incominciamo. Partiamo con me, uova, sogna paesana, pepe, le poche pecorine, parmigiano e spaghetti. Basta, più semplice che questo, se muro, veramente. Spaghetti ropovoriel, perché? Perché sono povoriel e se voi siete ricchi dall'altra parte, allora facete voi luoghi, perché con questi piatti si è veramente felice. Come queste ricette e come altre ricette, anche questa c'è una dedica. E oggi vado Assunta Filippone. Assunta, grazie di cuore per tutti i messaggi, per tutti i like e che mi segui. Sono troppo felice e per ringraziarti ti dedico questa ricetta. Voglio, questa ricetta a casa fa in da 6-7 minuti, il tempo che si cuoce la pasta. Quindi, shuè shuè, amore, cuore, passione, tanta umiltà e che se non volete ascoltare. Yam, yam. Voglio, come primo passaggio, mettete la sogna in una padella e fatela sciogliere piano piano. Vi andate ad aprire, naturalmente, le uova dentro e ve le fate a occhio di bue. Voglio, mi raccomando, innanzitutto, vabbè, salate un poco e mi raccomando, lasciatele con il tuollo bello morbido. Ogni porzione sono due uova. Una che va sopra e una che va stracciata dentro e poi vi faccio vedere. Con un po' di sogna bagnate con un cucchiaio, insomma, sopra per far cuocere. Salate l'acqua, calate gli spaghetti, sempre a sentimento universale, come sempre. Vedete? Come rimane ancora bello morbido. Adesso li prendete e ve li mettete in un piatto, a parte. Adesso, in quella stessa padella, io ci metto un po' di acqua di cottura. Che a mo' si affumicato e tutto cosa, però non fa niente. E in quella stessa acqua di cottura ci mettiamo i spaghetti, che in questo momento io li ho lasciati belli al dente, e li continuo a cuocere dentro. Adesso arriva la parte che a me più mi piace, veramente, che mi fa impazzire. Una volta che la pasta la sto facendo cuocere dentro, adesso io prendo le uova e me le vado a stracciare, me le vado a rompere dentro al piatto e me le vado a mettere direttamente dentro la padella. Adesso facciamo prendere tutto il sapore di queste uova. Qualche uova mantenetevela fuori per mettere come decorazione sopra al piatto. Poi ci mettete pecorino e parmigiano messi insieme. Mischiate un po', se c'è bisogno di un po' di acqua di cottura. E qua fate uscire una cremina proprio da food porn, un po' di pepe, vi faccio proprio a recreare. Questo è un piatto povero, ma vi fa sentire ricchi dentro al cuore, mi dovete creare. I piatti, quelli là più poveri, sono i più buoni. Io sono pronto, adesso andiamo a impiattare e vediamo com'è uscito. È a fin romuno, e il leone, se vi do un consiglio, lo dovete prendere. Guardate lei che cremo, guardate. Mamma mia mia. Ma io, solo noi poveri possiamo capire la bontà di questo piatto così ricco d'amore. Un spaghetto coriel è solo per pochi, è a fin romuno. Ma io, per Assunta Filippone, mi sono impegnato a fare veramente questo bellissimo piatto, che ci tenevo tantissimo, davvero. Perché nella vita si incontrano tante persone che hanno tanti soldi, ma alla fine, tutti quanti poi ritornano alle origini di una volta. E ora, fa massaggiare. Mamma mia. Buonissimo. Vieni a prendere la crema che si è fatta da sotto. Ti, vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Oggi la ricetta era per Assunta Filippone. Domani, chissà chi. Mo, voi vado a mangiare questo bello piatto, perché fra poco devo andare di nuovo a lavorare. E ci vediamo alla prossima video ricetta. Mi raccomando, seguita la mia pagina e vi aspetto. Ciao a tutti. Un abbraccio. Ciao a tutti.